Qual è il nostro pensiero? Siccome siamo stati votati per cambiare le cose e anche per fare cose nuove e anche per dare spazio alla creatività di tanta gente che per molto tempo è stata chiusa, che non poteva esprimere le proprie energie, quindi basta chiudere, basta opprimere, basta soffocare, liberiamole queste energie della città e facciamole vivere. Nessuna persona deturperà mai un monumento se se ne apprope in occasione di un concerto, di una festa o di una cosa bella. I napoletani l'hanno già dimostrato, sanno rispettare i loro luoghi quando li vedono come propri. È un nuovo orgoglio di appartenenza alla città di Napoli, quindi stiano tranquilli tutti, metteremo le regole giuste ma senza sfissia burocratica.